Come lo vado? Buona bella fotografia Allora, io ve lo dico, cosa fai? Lo saluto anche su Twitter Lo saluto anche su Twitter Tutti gli utenti dei social network Dillo tu, un saluto a tutti gli utenti dei social network di Twitter Ciao a tutti da Cristina Tigel, salutatore del blog per me è una grandissima sorpresa Massimo Poldi che è una sorpresa per tutti i social network Facebook, Youtube, Twitter per tutti gli internauti Seguitevi Piaggio alla Massimo Poldi Perfetto, sei anche su Twitter, vero? Soprattutto su Twitter E' un piacere Vedi come Twitter Saludiamo tutti i cipollini Ciao, arrivederci Grazie